due chicche vi mostro due chicche così restate poi qui fino alla fine del video due cose che stanno per arrivare poi ce ne sono tante altre ma le due più importanti sono queste tenetevi forte allora la prima in impostazioni sta per arrivare finalmente la possibilità di cambiare il nome del canale senza passare da google ancora non è attiva ma sta per arrivare è un indiscrezione c'è su tubefilter.com youtube a breve darà questa possibilità finalmente non se ne può veramente più ma 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 la seconda è quella che io sto aspettando davvero da tanto tempo e sono convinto che tanti anche di voi la stanno aspettando ed è questa quando le persone commenteranno ci sarà il time stamp del commento quando è stato fatto il commento in questo caso vedete dice 1.15 045 perché nei video vecchi molti mi fanno delle domande ma io non mi ricordo mai e quindi devo chiedere in che contesto hai fatto la domanda dove l'è fatta quella e finalmente con questa cosa sarà possibile avere il contesto il contesto nel quale viene fatta la domanda finalmente è in beta si potrà vi mostro un attimo la possibilità vediamo se eccola qua no il suo faccione non mi piace eccola qua vedete invece di mostrare il filtro solo i migliori commenti e i più recenti ci sarà il filtro time in beta in questo caso molto bello molto interessante grazie grazie youtube è in test per pochi ora lo vogliamo lo vogliamo anche noi ma quali altre novità stanno arrivando innanzitutto una cosa importante vabbè sapevamo che la pandemia ha portato sicuramente molti a passare in tanti ambienti social hanno iniziato a fare mamma che numeri che abbiamo fatto quest'anno è grazie al cavolo io avrei voluto proprio che non ci fosse mai questa dichiarazione però hanno fatto dei numeri importanti youtube è il social che è cresciuto di più in in america ed è diventato davvero pazzesco youtube rispetto a tutti gli altri addirittura ha un uso più alto di tutti gli altri davvero la sua popolarità è veramente tipo altissime al 95 per cento rispetto per esempio a ma instagram che al 70 o facebook che al 65 ma la cosa interessante sono i dati economici i dati economici sono molto interessanti perché mentre google è cresciuta del 34 per cento globalmente quindi è passata da tantissimi miliardi insomma ma fatto da 40 41 miliardi a 55 miliardi lo stesso quarter quindi insomma tra il 2020 il 2021 il più one youtube però è passata da 4 miliardi a 6 cioè significa del 50 per cento cioè le entrate di youtube sono cresciute del 50 per cento da 4 miliardi a 6 miliardi è veramente veramente tanto ed è importante per tutti ma cosa sta per arrivare e cosa diciamo ci è utile innanzitutto la parte di mobile stanno finalmente facendo delle cose importanti innanzitutto tutta la parte di visione del profilo da mobile la stanno migliorando con una maggiore visibilità per quello che è il numero di iscritti quando siamo iscritti a youtube e quanti video abbiamo realizzato la biografia ma poi stanno cambiando altre cose sul mobile stanno cambiando per esempio la possibilità da mobile so che qualcuno che segue creator pro va a usare solo il telefonino io questo lo so c'è anche scritto nella classe road to 10 mila la possibilità di cambiare il banner da mobile quindi ottimo per chi lo utilizza ma anche tutto l'about sta per venire semplicemente rivisto con le iconcine e tutte le informazioni non finisce qui da mobile perché anche c'è un altro aspetto da mobile che volevo portarvi poi vi dico altre due cose ai permessi ovvero la possibilità di gestire youtube quando voi date la possibilità di gestire youtube a qualcuno lo può fare solo da desktop ora sta arrivando anche da mobile e inoltre il link a youtube studio sarà anche nella main app di youtube così quando noi visualizziamo un video e abbiamo i permessi possiamo entrare a modificarlo direttamente da youtube con un link tra youtube e l'applicazione e youtube studio l'altra applicazione questo è importantissimo per noi perché così passiamo velocemente da una cosa all'altra l'ultima cosa che volevo mostrarvi per quanto riguarda le notizie è la questione della self certification perché è interessante perché sostanzialmente loro stanno andando a decidere delle altre linee guida sapete che ormai per chi di voi sta iniziando ha fatto l'upload dei video in questi ultimi in quest'ultimo periodo ha visto che la questione dei controlli preventivi sta diventando sempre più pesante prima di pubblicare il video fanno il controllo per la pubblicità e controllo delle linee guida tutto in automatico e ci danno l'ok per la monetizzazione questo ok per la monetizzazione che è l'hanno fatto step ed è allenato dai nostri feedback diciamo che ancora non funziona benissimo però c'è un momento se noi sbagliamo diciamo questa cosa qui se noi sbagliamo su un video a dare la valutazione rimane questo avviso che abbiamo sbagliato ecco stanno modificando questa cosa e gli avvisi dei nostri errori rimarranno per 90 giorni dopodiché torneremo ad avere il profilo diciamo pulito quindi se sbagliamo non rimarrà per sempre come sta avvenendo ora io ho sbagliato una volta che poi non avevo neanche sbagliato secondo me vabbè lasciamo stare con youtube un rapporto abbastanza particolare però ho un avviso da tanto tempo per un errore che ho fatto all'inizio sulla valutazione secondo loro ora rimarranno 90 giorni e quindi credo che sia importante allora con questo ho concluso ma vi aspetto venerdì o venerdì o il prossimo martedì uscirà il video sugli iscritti al canale sulle statistiche degli iscritti al canale per capire alcune cose importanti e quindi credo che sia un video di interesse abbastanza abbastanza grosso per per tutti per capirci qualcosa di più invece per le live che faremo qui su creator pro però tendenzialmente tipo sull'altro canale sul fast forward io mi sono spostato su twitch ancora non ho fatto una programmazione mi sto testando sto studiando mi sto divertendo twitch slash fate giorgiotave mi trovate lì e piano piano inizierò a fare delle altre cose noi ci vediamo o venerdì o martedì grazie a tutti grazie a tutti